Ed eccoci nuovamente insieme, ci eravamo lasciati ieri parlando di grandi esclusi dalla Kermesca Nora che più di ogni altra tiene Banco in Italia puntuale in questo periodo dell'anno e nell'elenco, oltre ad Alexia a cui abbiamo dedicato un brano che aveva vinto nell'edizione 2003, ecco che figura anche Alan Sorrenti che non è stato ammesso al festival a cui sperava invece di partecipare con i calibro 35. Lui però all'Ariston c'era stato e parliamo esattamente del 1988 per la prima volta tra gli esordienti ci piace quindi ricordare quella edizione e chi ne fu vincitore anche tra i cosiddetti big. Intanto era il 38esimo festival di Sanremo e si svolse al teatro Ariston dal 24 al 27 febbraio con la conduzione di Miguel Bosé e Gabriella Carlucci con la partecipazione di Carlo Massarini in collegamento dal Palaroc Intervenivano anche Kay Sandwick, Lara Stempol, Memo Remigi in collegamento dal Casinò di Sanremo e Valerio Merola che cura i collegamenti esterni e dalle manifestazioni collaterali L'edizione si svolse sulla falsariga della precedente, cioè come l'anno prima fu organizzato uno spettacolo di contorno proprio al Palaroc adibito a ricevere gli ospiti di maggior prestigio e per quanto riguarda gli stranieri ecco che erano i New Order, Paul McCartney e George Harrison questi ultimi due entrambi ex membri ovviamente dei Beatles Nella terza serata dopo l'ascolto degli otto semifinalisti della sezione nuove proposte e tentando di ripetere il fortunato esperimento dell'anno precedente ideato da Pippo Baudo Aldo Biscardi fu chiamato a condurre il processo al festival, un dibattito in corso insomma dedicato alla Kermess in corso con l'intenzione di smorzare la tensione della gara dei big E infatti partecipavano anche Sandro Paternostro nel ruolo di difensore e Vincenzo Mollica in quello di accusatore La discussione assunse però presto toni molto rissosi fra cantanti e giornalisti tanto che molti degli artisti in gara, e fra questi Francesco Nuti e Luca Barbarossa, decisero di abbandonare il programma in diretta in polemica con la formula della trasmissione A causa di questo fallimento l'idea del dopo festival, o comunque in ogni caso di un luogo, di uno spazio dove commentare la Kermess venne poi accantonata fino al ritorno di Pippo Baudo che poi ne fece di nuovo una parte importante, insomma ne giocò un ruolo importante anche nel festival stesso L'edizione in ogni caso fu vinta da Massimo Ranieri con il brano Perdere l'amore per la sezione Campioni, curiosamente presentato l'anno prima da Gianni Nazaro e non ammesso alla selezione, e dai Future con il brano Canta con noi per la sezione Nuove Proposte Il premio della critica invece andò a Fiorella Mannoia che vissò lo stesso risultato dell'anno prima con la canzone Le notti di maggio mentre il primato delle vendite dei singoli andò a Tulio De Piscopo con andamento lento Molte polemiche furono causate dalla canzone terza classificata dai campioni L'amore rubato di Luca Barbarossa che parlava di una violenza sessuale A grande richiesta del pubblico, la serata finale invece subì un'interruzione per consentire di mandare in onda la seconda manche dello slalom speciale valido per i quindicesimi giochi olimpici invernali, vinto da Alberto Tomba Già nella seconda serata, il 25 febbraio, Miguel Bosé si era limitato ad annunciare la vittoria dello stesso Tomba nello slalom gigante E così a chiudere il cerchio noi adesso torniamo agli esordienti e a quel giovane Alan Sorrenti che cantava come per miracolo che vi riproponiamo adesso